Eccoci qua a voi tutti amici di Rieta 7, ben ritrovati da Giuseppe De Vitis. Siamo ancora nel tunnel, però quantomeno, non sempre, ma spesso, soprattutto proprio sul nord-ovest rispetto al resto d'Italia, ogni tanto si vede la luce in fondo al tunnel ed andrà meglio sul nostro territorio rispetto per esempio al nord-est, come spesso accade in certe situazioni, ma anche rispetto ad alcune regioni centrali. Quindi nuvolosità variabile, ma non mancherà nemmeno il sole, anzi le aperture del cielo saranno prevalenti, soprattutto sul Piemonte, vedete, più si andrà verso ovest, scusate, verso est, maggior sarà la nuvolosità, soprattutto tra il pomeriggio e la serata e sui settori, vedete, di confine più orientali della Lombardia, anche dei rovesci di pioggia tra il pomeriggio e la prima serata, però procedendo verso ovest e quindi sul Piemonte, la situazione sarà più tranquilla, ma anche sui settori più occidentali della Lombardia. Temperature, quindi, che si attesteranno le massime attorno ai 19-24 gradi. Beh, insomma, le temperature sono abbastanza gradevoli, a tratti anche molto miti, d'altra parte è giusto che sia così, siamo ormai quasi a fine maggio. Per il momento è tutto, cari amici, buon proseguimento, ci riaggiorniamo presto, arrivederci.